Tutto capitano dell'acqua San Bernardo, intesa San Paolo, una bella vittoria qui a San Biagio. Io ho detto nelle pagelline che giocare a San Biagio contro Pettavino equivale ad andare dal dentista. Ed è vero, tu stasera hai sorderato una partita con i fiocchi, hai trovato l'analgesico giusto e ci siamo portati a casa un punto. Siamo contenti, era veramente difficile, qua è un campo tosto, Pettavino e tutta la squadra giocano a livello molto alto, siamo stati bravi fin da subito a partire con la marcia giusta, andare via e metterci del piano in cascina per poi chiudere la partita. Dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto un buon punto, adesso testa mercoledì.